Genuani si resta Gold Edition è un podcast sulla genuanità. Gold Edition perché in questo format andremo alla caccia di nuovi ambasciatori dei colori rosso-blu. Questa volta tocca i personaggi del mondo dello spettacolo, giornalisti, scrittori, insomma quelli che magari per modestia o solo perché fa un po' snob non amano farsi chiamare VIP, ma che sono comunque personaggi conosciuti e che hanno utilizzato e utilizzano la loro professione e la loro notorietà per farsi portacolori della squadra di calcio più antica d'Italia, il Genua Cricket & Football Club. Ogni episodio un ospite racconterà ai tre padroni di casa Carlo Danani, Andrea Moresi e Stefano Gaggero e a tutti gli ascoltatori della sua genuanità fuori dalle mura della superma. Sempre forza Genua e buon ascolto. Un benvenuto a tutti gli ascoltatori di Genuani Si Resta e benvenuti a Genuani Si Resta Gold Edition. Che cos'è Genuani Si Resta Gold Edition? Per chi conosce Genuani Si Resta è un podcast sulla Genuanità nel mondo. Siamo andati a cercare i Genuani che vivono all'estero e allora abbiamo deciso di creare uno spin-off che si occupa di ospiti VIP, di celebrità, di personaggi dello spettacolo, Genuani ovviamente, non necessariamente che vivono all'estero o che vivono fuori da Genova, ma che comunque nel corso della loro professione hanno sempre mostrato e portato alta la bandiera dei colori rosso-blu. Quindi primissimo episodio, nuova squadra, per questo Genuani Si Resta Gold Edition abbiamo creato una squadra un po' diversa con un inviato da Genova, il The Voice, Andrea Moresi di Ex Radio Zena e oggi Radio Music for Peace. Ciao Andre. Ciao, mi sembra di essere tipo Guerre Stellari. Abbiamo più spin-off di Genuani Si Resta che i Guerre Stellari, secondo me. Sai quando una cosa ha questo successo proprio che... Sei lo Steven Spielberg dei podcast italiani. Esattamente. Ciao a tutti, sono contentissimo ovviamente di partecipare a questa trasmissione che amo tantissimo. Mi piace anche questa ramificazione e settorialità praticamente che sta prendendo questo podcast che in radio ormai noi definiamo trasmissione di Radio Music for Peace a tutti gli effetti. Andrà in onda negli orari canonici di Genuani Si Resta, il martedì alle 21, mentre il podcast sarà già disponibile alle... 19. 19 italiane, ok. Così per l'ora di cena. Accompagnarci in questa avventura, sempre per rimanere un po' ramificati sul territorio, da Piacenza, il nostro giornalista genuano Carlo Danani. Ciao Carlo. Ciao Stefano, ciao Andrea. Un saluto a tutti gli ascoltatori e permettimi di ringraziarvi per avermi voluto nella vostra squadra. Ho iniziato questo podcast da ospite. Adesso avrò l'onore di fare le domande e quindi se poi gli ospiti hanno il carisma di Ignazio Oliva, insomma per me è un grande onore partecipare. Perfetto. Beh poi ci voleva un giornalista, voglio dire andiamo a intervistare. Andremo a intervistare anche dei giornalisti, quindi giocherai in casa, però voglio dire uno che fa le domande intelligenti ci voleva. Ah beh grazie, aspetta di giudicarmi però. Giornalista grazioso però. Uno speaker radiofonico genuano a cui fare domande stupide non c'è perché io mi candido per fare le domande. Io t'ho preso per quello. Io non so come definirmi perché tu sei uno speaker, lui un giornalista. Tu sei Spielberg. Io sono la causa di tutto questo, molto bene. Allora, primissimo episodio, primissimo ospite, grandissimo ospite. Come al solito iniziamo a presentarlo con la scheda diciamo di biografia genuana e poi parleremo invece della sua professione. 52 anni, vive a Roma, è nato a Londra, però dice sono arrivato subito a Genova. Della zona centro storico di Genova, genuano dalla nascita assolutamente sì, una genuanità trasmessa dalla signora di servizio e da suo papà. Prima partita del Genoa allo stadio intorno agli anni 70 nella sud, ma non si ricorda bene la partita. Si definisce un genuano innamorato. Migliore giocatore preferito di tutti i tempi del Genoa, Pato Aguilera, in assoluto nel calcio Diego Armando Maradona. Ha giocato a calcio, alla sinistra ci tiene a ricordare il famoso numero 11 di una volta. Altre squadre per le quali Tifa simpatizza il Lecce. Hobby e passioni, oltre al cinema ovviamente, pesca, teatro, sport e mare. La più grande gioia vissuta da Genuano, il derby di Boselli e le più grandi delusioni, Taranto Genoa 3 a 0 dell'86-87 e Genoa Padova lo spareggio di Firenze. Il gol più bello, quello di Pavoletti in Genoa Palermo, quello di Boselli nel derby e onorati Genoa Reggiana. È sposato però con una romanista, ha due figli, uno di 16 anni che simpatizza e il secondo è appena arrivato, è un bebè, però io so che è già genuano. Non fa parte di nessun Genoa Club, ma si vanta di portare la sua pezza, rosso-blu, e va spesso in trasferta a vedere il Genoa. Quindi da Roma, Ignazio Oliva, attore e regista. Ciao Ignazio. Ciao a tutti, ciao Stefano, ciao Andrea, ciao Carlo. Un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie, sono felice ed onoratissimo di essere qui in questa prima puntata con voi. Grazie per avermi invitato. Beh, grazie a te, sono onoratissimo io e sono anche un po' emozionato perché onestamente è la prima volta che intervisto una celebrità, posso chiamarti? Ma no. Come no? Non mi definisco tale, non mi sento tale. Vabbè, dai, ora puoi parlare. Ma no, la verità, perché faccio un mestiere sicuramente che ha un suo appeal, però sicuramente è uno dei mestieri più difficili al mondo, ma sono un attore attipicissimo, attipicissimo, quindi non... Vabbè, ora io poi snocciolerò i tuoi numeri e anche gli ascoltatori capiranno che ne parliamo di un attore da poco, anzi. E volevo però anticipare un paio di cose che ho scoperto di avere in comune con Ignazio. Innanzitutto, lui è nato, mi pare, il 26 settembre del 70, io sono nato il 2 ottobre, quindi ci distanziano pochissimi giorni. Lui è nato a Londra, ma poi dice di essere arrivato a Genova molto presto. Io sono nato a Genova e, se ricordate bene, in quel periodo stiamo parlando dell'alluvione di Genova. Forse è l'alluvione peggiore che Genova ha visto. Quindi, insomma, ci accomuna un po' questa cosa. Ci accomunano gli studi. Siamo entrambi laureati in scienze politiche a Genova. Lui ha studiato anche a Milano, però si è laureato a Genova, con lo stesso indirizzo. E la terza cosa che ci accomuna è che entrambi abbiamo avuto una storia con Liv Tyler. Lui sul set, io nei miei sogni, però ci accomuna questa cosa, sicuramente. Io metto i dischi di suo padre, se può servire. Ecco, che a proposito, volevo dire, Stephen Tyler, frontman e leader degli Eurosmith, il vero cognome è Talarico. Quindi, come il nostro Francesco del podcast Genuani si resta, che peraltro salutiamo veramente. C'è una differenza, uno ha due L e l'altro una, ma comunque... Hai capito il fra... Più o meno siamo così. Non so se è parente di Liv Tyler, Francesco, non me l'ha mai detto. Detto questo, snoccioliamo due numeri. Una ventina di telefilm, 30 film, una quindicina di spettacoli teatrali, 12 cortometraggi, documentari. Ha lavorato con Bernardo Bertolucci, Wim Wenders, Abel Ferrara, Paolo Sorrentino. Insomma, mi pare che abbiamo davanti un signor attore e soprattutto un signor genuano. Ma prima di parlare della sua professione, Ignazio, raccontaci della tua genuanità. La mia genuanità, la mia genuanità. Come nasce, come cresce e come si sviluppa. Io devo tutto, tantissimo, alla signora che lavorava a casa, quando ancora i miei genitori erano insieme, sposati. Calcola, come ti ho detto, io sono nato a Londra, ma se vuoi te la ti dico anche perché, velocemente. Nel 70 non c'era ancora il divorzio in Italia. Mia mamma era ancora sposata con il primo marito, quindi se fossi nato in Italia sarei nato col cognome del primo marito di mia mamma. Quindi per questo sono emigrati altrove, in quei paesi al tempo più civili, forse anche oggi, che erano l'Inghilterra, la Francia e la Svizzera, dove il divorzio era una cosa consentita e quindi hanno scelto Londra e da lì, appena nato, sono arrivato a Genova. Fino ai nove anni sono rimasto a Genova, i miei stavano insieme, poi si sono separati e sono venuto a vivere a Roma. Ma quel marchio, quell'imprinting di Genoano, grazie al cielo, è rimasto, nonostante avessi vissuto e ho vissuto tanti anni a Roma e essere Genoano fuori non è facile e lo devo soprattutto, sicuramente anche a papà, ma papà non è malato come me, cioè è uno di quelli sportivi, molto sportivi, sportivi, genuanissimo, ma di quelli che dicono, vabbè però se anche la Sampdoria vince fa bene alla città, l'economia, quei discorsi che per carità ci possono anche stare. Invece la signora di servizio che veniva ogni tanto, Maria Castangia Sarda, genuanissima, col suo fidanzato genuanissimo che ogni domenica la veniva a prendere all'ora di pranzo, con la sua Opel Kadett azzurra, non me la dimenticherò mai. Io ce l'avevo marrone. E io con loro, sì ma la Opel non era la stessa, perché quella degli anni 76-77 non è la stessa che hai avuto tu. Era dell'80, sì forse era già restyling, se vogliamo chiamarlo così. Quella, insomma, veramente una vecchissima macchina e mi portava regolarmente a vedere il Genoa nella sud e non solo, mi faceva le sciarpe a mano, me le cuciva con la lana, con le belle pesanti. Quindi io devo tutto a lei e ringrazierò sempre lei per questo. Da qui nasce. Dopodiché, quando sono arrivato a vivere a Roma, 1979, avevo nove anni, io mi ricordo benissimo nella prima casa, avevo a fianco al mio letto, avevo ritagliato tutte le foto di Girardi Onofri Testoni, tutta questa, queste persone che hanno giocato nel Genoa in quegli anni, ce l'avevo a fianco, nella parete a fianco al mio letto. E da lì, non è, insomma, come dire, nonostante in quegli anni, specialmente negli anni 80, poi sai, ero un bambino, no? La Roma vinse lo scudetto, la Roma giocava bene, era una bella Roma, quella di Falcao, poi a scuola la maggior parte romanisti, cioè era anche un po' facile. Non ti nego che ogni tanto sono andato anche a vederla alla Roma e ho anche tifato qualche volta con qualche amichetto al gol della Roma, ma non mi è mai passato per la testa di diventare romanista o laziale, neanche meno, ma ho simpatizzato perché inevitabilmente vivendo in questa città da adolescente e non da bambino e adolescente, comunque un po' empatizzavo. Poi mi ricordo che quell'anno, quando noi ci salvammo, la Roma vinse lo scudetto col mitico abbraccio delle due tifoserie, al tempo noi eravamo anche gemellati con i Cux, la Fossa era anche gemellata con la Roma. Quindi mi piaceva questa amicizia, queste due squadre mi stavano, il fatto che appunto fossimo gemellati con loro era un valore aggiunto e quindi però mai nella testa mi è passato di diventare tifoso romanista, questo no. Queste sono un po' le origini, ecco. E poi una genualità che è cresciuta chiaramente negli anni della scuola superiore, dell'università. Sì, soprattutto l'università, l'università avendola fatta per tre quarti a Milano e per un quarto a Genova, io mi ricordo che in quegli anni, erano gli anni del Genova di Bagnoli, io mi muovevo da Milano con la Fossa sezione Milano e scendevamo, prendevamo il treno da Milano e andavamo giù a Genova regolarmente piuttosto che in trasferta. E quell'anno è stato gli anni, gli anni, quei due e tre sono stati gli anni più ultras della mia vita, dove sono veramente andato ovunque, Liverpool compreso. Vorrei ricordare una cosa, scusami Stefano se interrompo, perché parliamo più o meno, hai parlato Ignazio del Genova negli anni 80, poi praticamente, era un'epoca in cui essere genuani, adolescenti, a Genova o fuori, per chi non riusciva a seguire direttamente il Genova allo stadio, non c'era una grande differenza, perché comunque si sentiva tutto calcio minuto per minuto, dovevi sperare che ci fosse il Genova tra quelle pochissime squadre che erano in diretta. E poi comunque alla domenica sportiva, se c'era il Genova, era proprio negli ultimi servizi, quindi in questa fase probabilmente la distanza non è stata un grande problema. Sì, compagni di scuola con cui parlare, quello magari sì, però per la passione proprio di seguire il Genova questa grande differenza non c'è stata, tutto sommato. Ti dirò che sicuramente c'erano i collegamenti radio, anche quella partita che tu prima hai menzionato Stefano, quel famoso Taranto Genova 3-0, io ero in piazza De Ferraria quel giorno, con la radiolina, con i miei amici genovesi, ma quindi novantesimo minuto, dribbling, seguivo per carità seguivo, ma è stato molto più bello inevitabilmente gli anni, sono stati molto più belli gli anni in cui andavo allo stadio, gli anni dell'università che mi permettevano da Milano di prendere un treno in un'ora e mezza e arrivare giù, era un'altra cosa. Da bambino ovviamente venivo a Genova ogni tanto a trovare mio papà che era rimasto a vivere a Genova e facevo e tutt'oggi cerco sempre di coniugare le visite dei parenti ad una partita e quindi cercavo di venire quando c'erano i derby, per esempio i derby ne ho visti tantissimi anche se vivevo a Roma, pigliavo un aereo o il treno e venivo, però altra cosa è essere più vicini, come quando era a Milano e poterlo vedere quasi tutte le domeniche. Sicuramente insomma vivere alla genuanità da distante, che è poi un po' anche il focus del nostro podcast, è una cosa un po' particolare. Tu nella tua scheda dicevi appunto genovese del centro storico, quale zona di preciso? Sì, dunque la verità è che fino a quando sono rimasto a vivere a Genova era un altro quartiere, era più o meno Albaro, tra Albaro e un po' più avanti, più o meno Albaro, ma successivamente quando sono venuto a vivere a Roma mio padre poi prese un'altra casa nei vicoli, più o meno tra Piazza Campetto, da quelle parti lì, via Luccoli, Piazza Campetto, mio padre abita ancora là. Ok. Carlo qualche domanda, tu che sei un genuano fuori porta? Ma io sono molto incuriosito dall'adolescenza di Ignazio, nel senso che io fortunatamente io mi reputo fortunato perché sono nato nell'epoca in cui c'erano gli oratori, mi ricordo le botte che prendevo perché tornavo a casa su dato marcio dopo partite all'ultimo sangue con gli amichetti e io avevo la deformazione professionale che durante le partite in oratorio facevo la radiocronaca, quindi evidentemente c'era qualcosa che poi doveva esplodere in me. La domanda per Ignazio è, Ignazio adolescente barra calciatore, come si comportava? Sentivi anche lì la tua genuanità, come erano le sfide con i tuoi coetanei, c'è qualche episodio magari gustoso da raccontare? Allora, io ho malato di calcio, ho sempre giocato tanto, tanto, tanto. La mia adolescenza o anche infanzia, prima Genova e poi a Roma, ho sempre giocato in delle squadrette più o meno professionali, fino anche a giocare nel vicoletto sotto casa a Roma, a Borgopio, dove si prendeva la palla, si andava la mole Adriana che sono i giardinetti di Castel Sant'Angelo e partite su partite, sbucciature sull'asfalto, troppi ricordi ho in tal senso e spesso e volentieri mi mettevo la maglia del Genoa, comunque Roma, non Roma, ce l'avevo sempre addosso. Per dirti, al tempo, non so se vi ricordate, andavano abbastanza di moda gli zainetti invicta, ve li ricordate? Io ce n'avevo uno rosso-blu e sopra col pennarello ci scrissi Fossa dei Grifoni. è durato praticamente tutti i tre anni delle medie, continuavo a scrivere sui muri e devo dirvi che questa cosa che sto per dire è che sicuramente non ha niente a che vedere con la civiltà e il senso civico, io continuo ad appiccicare, bravo, quello lì, esatto, lo sta mostrando Carlo, ce lo sta mostrando in video. Ma forse, Inizio, tu parlavi di quegli zainetti a righe, orizzontali? No, no, quello che ci ha appena fatto vedere. Ah, proprio quello? Ah, ok, ok. Questo è originale, ci andavo alle vizie con questo zaino. Bravo che l'hai tenuto, io ho cambiato 18 città in 50 anni, quindi ho perso nei traslochi un sacco di roba, ma non ho perso l'abitudine, forse un po' incivile, di appiccicare adesivi del Genoa ovunque io vada. I bollini? Piuttosto che gli adesivi, grifoni ovunque e così sia. E anche a 52 anni, non dovrei dirlo, ma il mio quartiere qua di Roma è bello tappezzato, per non parlare delle targhe della mia macchina o del mio motorino o del casco, dove ho anche rischiato qualche volta. A Roma meno, a Roma devo dire meno, ma una volta a Bari con la macchina non è stata una passeggiata. È vero, è vero, è proprio così. È noi un po' l'esigenza di mostrare la propria genuanità a prescindere, no? Cioè abbiamo un po' questo vizio, forse anche un po' presunzione, no? Di dover dire, guardate, non vi conosco, non mi interessa, io sono genuano e sono qua, no? Sì, è una cosa proprio identitaria, che va anche oltre la città, ti voglio dire. Almeno per me, che non l'ho potuta vivere come voi, ma neanche tu Stefano forse, cioè almeno io ho vissuto a Genova dagli 0 ai 9 e poi in un paio d'anni dai 14 ai 16, poi sono tornato l'ultimo anno di università, quindi sempre ho vissuto a Spizzi e Bocconi e non vi nego che io ho un rapporto di amore e odio con la città, legata ai ricordi, legata al vissuto, quindi ognuno ha il proprio vissuto e con quello fa i conti. Amo fortemente Genova, ma per tante cose invece no, non so se ci vivrei, ti dico la verità, legata probabilmente a dei ricordi non felici, separazioni, cose, insomma la amo e la odio, nello stesso tempo, però paradossalmente amo più il Genoa di Genova, capito? Questo sì. Anzi, quando vai fuori vedi qualche segnale di una Genova che non ci piace, perché magari ha tanti colori, perché ci ricorda un quartiere davanti al porto, eccetera, eccetera, ci viene proprio nervoso, dobbiamo per forza intervenire con qualcosa di rosso-blu, che almeno lì non si sbaglia. Che poi la difendo sempre la mia città fuori, per carità ogni volta ne parlo benissimo, però tra noi, tra genovesi e genoani, a voi con grande onestà, ve lo dico, ci sono delle cose che hanno a che vedere comunque con una mentalità a volte troppo provinciale, cioè mi piacerebbe che si svecchiasse un po', che fosse un po' più moderna la nostra città, anche nella cultura in generale, no? Poi ci sono cose che invece adoro e amo della mia città e che non ho trovato altrove. Soprattutto penso nel campo dello spettacolo siamo una città, viviamo noi a Genova in un posto veramente retrogrado sotto mille punti di viso, ma è la città del Mani Man, dai. Ma certo, certo, certo. Sì, però quello che a me piace sempre sottolineare è proprio questo essere genoani, che è una malattia, non giriamoci intorno, insomma. Io vedo, conosco tanti altri tifosi, anche qui all'estero, e mi guardano come dire, ma come fai a essere così attaccato a questa squadra, che pure, voglio dire, soddisfazioni te ne date veramente poche. Cioè, dei tifosi di calcio che ci sono qua, che conosco io, italiani, e nessuno è così come noi. Esatto. E io ogni tanto mi domando, ma è figlia del fatto che appunto non abbia mai vinto un belino e allora forse siamo meno con la puzza sotto il naso di altri. No, no. Oppure, non lo so, siamo fatti veramente... Perché poi ci guardano strano. Ora, non so, Ignazio, tu hai girato, sei stato a Milano, sei stato... Vivi a Roma, hai sposato una romana, che se ho capito bene è tifosa dalla Roma. Insomma, ti guarderanno un po' male a dire, ma perché questo qui è così genuano? Ma, più che guardarmi male, allora, qua apro il capitolo sulla domanda che mi avevi posto qua sulla mail che mi avevi mandato, no? I figli, no? I figli genuani. E, allora, ti dico questo, che ha mio figlio grande, Orlando, ed è una cosa che è capitata anche a me tutta la vita. Gli spiegavo, sai, lui, d'altra parte, è nato a Roma, ok? È nato a Roma e la passione ha giocato a calcio tanto, ha giocato in porta, adesso invece da due o tre anni gioca a pallavolo, come dicono a Roma, avvelenato, gioca molto bene, è impallato con la pallavolo, non è mai stato un grande tifoso di calcio, ok? Però io ho fatto con lui un'operazione dove forse ho sbagliato e probabilmente col secondo non la farò più, anche se ho cominciato con le stesse note. E cioè, ho fatto un po' come facevano i fascisti una volta, cioè indottrinamento proprio di quelli martellanti, gli mettevo la maglietta del Genoa anche se stava in porta a parare, i calzettini, le cose, lo portavo allo stadio, si è divertito un casino e sicuramente simpatizza Genoa, per carità, gli ho detto, Orlando, a Frosinone con me vieni, perché sono le trasferte più vicine, questa me la devi, fallo per papà, ma gli dicevo, sai Orlo, nel momento in cui tu scegli una squadra, sappi questo, che se tu dici Genoa, ovunque tu vada, vedrai che nessuno ti dirà niente, anzi tutti quanti avranno un grande rispetto. Se tu dici Juve, Milan, Inter, Roma o Lazio, ci avrai sempre qualcuno che storce il naso, avrai sempre qualcuno che c'è da dire, specialmente le più forti, le più note, Milan, Inter, Juve, ed è comprensibile, anche io sono tra quelli che le critica e che, insomma, ma se dici Genoa vedrai che ti rispettano tutti e lui l'ha capito sulla sua pelle e questo è successo anche a me, qua, quando io dicevo, io sono tifoso del Genoano, sono Genoano, tutti quanti dicono, ah però Genoa, però, ammazza, mi diceva di un bertifo, sei della squadra più antica d'Italia, però massimo rispetto, capito? Quindi avvalorava e, per carità, anche se ci avessero odiato, cioè a noi ci odia solo la Samp, ok? Chi? Non so, ho detto una parola che forse non... No, tanto la cancelliamo. Bravo. Quindi la mia adolescenza qui, tutto sommato, non è stata drammatica, non è stato drammatico essere Genoano fuori, perché comunque tutti quanti hanno sempre rispettato la mia genoalità e rispettato la squadra. Io penso che forse negli ultimi anni delle era preziosi, poi cancelliamo anche la parola preziosi. Qualche antipatia fuori dalla nostra città l'abbiamo avuta, però non era causata dalla nostra passione, anzi, probabilmente chi riusciva a capire quello che stavamo provando ci avrebbe rivolto sentimenti positivi di simpatia. Però, indubbiamente, il Genoa era accumulato dalla valigetta e il Genoano purtroppo da qualche altro episodio, screde Eureco, diciamo così. Per cui abbiamo passato un momento difficile, anche se all'inizio di Gloria. Ma volevo farti invece ancora una domanda, seguendo quello che Ignazia aveva detto fino a poco tempo fa. Parlando di orgoglio, perché poi a me piace proprio parlare di Genoa a livello umano, no? Hai mai dettato delle regole alle persone a cui vuoi bene? Magari quando hai conosciuto tua moglie e le tue precedenti fidanzate dicendo, ok, va bene, ti porto all'IKEA, ma al sabato, perché la domenica c'è il Genoa. Cioè, fino a che punto l'hai messo davanti il Genoa nella tua vita. Subito, subito. Deve essere, è stata una cosa chiara fin dall'inizio. Calcola che io sono al secondo matrimonio, ok? E in questo caso, nel secondo matrimonio, tra l'altro, ho sposato una donna, guarda, posso raccontarvi come ci siamo conosciuti? Perché ha a che vedere col Genoa? Ha a che vedere col Genoa. Perché, che succede? Questa donna che non conoscevo, ma vedevo soltanto in televisione, perché è una giornalista, mia moglie, si chiama Giovanna Pancheri, ok? È una giornalista di... Citiamola, perché è un volto noto, è tanto amato. Sky TG24. È sempre stata la mia giornalista di Sky preferita. Ecco, volevo svelarti. anche la mia, anche la mia, ma... Hai fatto un passo in più, Ignazio. Ho fatto anche un figlio e ti voglio dire, arrivo subito alla coda, ti voglio dire che mia moglie per il mio compleanno, il 26 settembre scorso, si è fatta mandare dai miei amici di Genova il completino del Genova per il nostro figlio piccolino bebè. E dai. E questa è la chicca finale. Ma lei ha capito subito perché il primo giorno che ci siamo conosciuti, eravamo ad una cena in Salento, perché poi io ho anche metà cuore giù in Puglia, ne parleremo più avanti se avete voglia, era venuta giù per presentare il suo primo libro, che era un libro sugli attentati di Parigi, eccetera. Era venuta giù e quindi degli amici comuni hanno detto vabbè andiamo così la conosci, poi il giorno dopo c'è la presentazione del suo libro. Siamo a chiacchierare a tavola, io mi metto davanti a lei, la guardo senza farmi vedere che la guardo, insomma i primi approcci molto educati perché a me quando piace una mi cago d'osso, insomma mi intimidisco più del normale. E lei mi dice ma allora domani vieni? E io dico guarda io domani ho un problema, non posso venire alla tua presentazione del libro. Mio nipote che era lì a fianco mi fa e diglielo un po' perché non puoi e ho detto ma porca puttana ma ti rendi conto? Ma sei proprio un pezzo di merda. Cioè c'è una donna accolta, intelligente, che ha girato mezzo mondo e al che gli dico senti la verità domani gioco a Genoa a quell'ora. Ed era la prima di campionato dopo l'estate voi sapete l'estate quanto soffriamo, quanto siamo proprio in astinenza. Era un genodinese di cinque anni fa, tipo il 30 di agosto e pur essendo in Salento fa niente, pur essendo la prima di Giovanna che mi piaceva, che era venuta e che era andato alla cena e gli ho detto guarda non posso. E non ci andai. Ragazzi io non ci andai. Ci andai il giorno dopo a prenderci un caffè e poi insomma è partita la nostra storia d'amore. Questo per dirti come sono io e l'ha capito dal giorno uno. Scusa ma cinque anni dopo gliel'hai domandato ma cosa hai pensato in quel momento? No gliel'ho domandato forse anche prima, ma mi sono fatto perdonare con tutto l'amore che le do e che ricevo anche da lei. Quindi ha capito, ha capito e sabato purtroppo adesso ogni tanto sapete che quest'anno mi è capitato di dimenticarmi perché si gioca di sabato io non ero abituato un paio di volte. Ma porca puttana c'è Genoa ha cominciato già da un quarto d'ora. Quindi sa bene che quando c'è Genoa non vola una mosca oppure me ne vado in un'altra stanza. Ma in realtà è l'ennesima prova che aveva ragione Marco Ferradini quando diceva che ci sono delle regole in amore e quella di non dare proprio tutto subito. Cioè dire ok mi piace, ci capiamo. Però era un teorema. Comunque volevo far notare a tutti i tifosi genuani che Ignazio ha introdotto una nuova regola che secondo me è un paradosso. Cioè tifare Genoa per il quieto vivere che non si è mai visto però quello ha insegnato a suo figlio e a quanto pare funziona. Però quieto vivere e Genoa non sono due cose che sono mai andate molto d'accordo. Invece il Genoa e gli impegni sul set come si concilia? Eh bella domanda. Bella domanda. Quest'anno allora di solito noi quando si fanno dei quando si girano dei film che sia che sia tv o cinema devi sapere se giri fuori Roma si lavora anche il sabato mezza giornata. Quindi finché eravamo in Serie A non era un grande problema anche perché ripeto io in passato andavo molto di più allo stadio ora un po' meno primo figlio poi l'altro eh però per dirvi i derby non c'era verso cioè i derby io dovevo esserci sempre e così è stato. È capitato qualche volta di non poter esserci di non esserci ma insomma tendenzialmente i derby sono sempre andato. E poi ho sempre cercato di coniugare i momenti di visite parentali con qualche partito o anche qualche incontro di lavoro su Genova che raramente ma può accadere. Però sui set se mi se la domanda è rispetto al lavoro direi che non c'è nessun problema a meno che appunto giri a Bari e c'è la partita. Io mi ricordo una volta riuscì andare a Palermo pensa un po' andai a Palermo da solo prendendo un volo indimenticabile di queste compagnie scrausissime facendo tappa a Bari non mi ricordo cosa ma insomma a volte sono riuscito anche a scappare da un set per raggiungere il grifone altre era impossibile specialmente se ci trovavamo a girare in regioni molto lontane. Da un punto di vista di rapporto con la troupe della mia generale unità è sempre stata rispettata tutto il mondo del cinema maestra. Sì no io appunto intendevo più come si vive quando sai che il Genova sta giocando ma tu devi essere sul set e non puoi seguire non puoi vederla non puoi magari una partita che è importante magari un derby una cosa del genere. Entro nei camerini col mio ipad e tra una scena e l'altra mi guardo quello che posso ma è accaduto anche questo. Andrea avevi una domanda? Sì perché mi incuriosisce tantissimo Ignazio e soprattutto per il mestiere che fa e per come porta avanti la sua genuanità no? Noi esseri normali che facciamo i lavori più diversi a questo mondo possiamo essere un po' condizionati dal risultato della partita del Genova cioè andiamo a lavorare arrabbiati magari discutiamo col collega ma noi non siamo come te che dobbiamo interpretare un ruolo che chissà quanta preparazione precedente richiede cioè come riesci a coniugare questo genere di difficoltà difficoltà che comporta la genuanità no? Quando sei sull'ambiente di lavoro quanto ti condiziona il genuano i risultati? Guarda a me il risultato condiziona sempre e molto non solo sul lavoro ma anche nei rapporti in casa mai però superando un limite di educazione e rispetto che sia chiaro è quel magone che ti porti dentro e quell'atmosfera brutta che ti porti dentro se parlo dell'atmosfera brutta perché tendenzialmente noi non è che ci abbiamo avuto tantissime gioie per carità ma allora nel mestiere invece sono cose che invece puoi usare allora visto che poi ci sono varie filosofie di lavoro sul mestiere dell'attore io vengo da una filosofia più stanislaschiana da stanislaschi che è quello di di sentire per davvero le cose non di dire adesso recito adesso faccio la faccia no ma di provare a ricercare dentro di sé quell'emozione per davvero e viverla quindi per un film drammatico se genua perde il derby torno sul set che sono perfetto torno che c'ho quel dolore che uso a volte nelle nelle commedie forse si pensi a boselli che ne so si può pensare a quel derby però però insomma si diciamo che a me cambia l'umore non in modo malato non in modo drammatico ma mi cambia mi cambia l'atmosfera che che intorno a me l'atmosfera interiore ecco diciamo così come invece è bella l'atmosfera interiore che stiamo vivendo in questi giorni in questo periodo no si vede che vivi lontano da genova da questo punto di vista perché a genova cioè o si stravince o si perde ma la differenza è sempre minima è quello che notiamo nella vostra trasmissione all'esena del dopo partita la serenità nei commenti di carlo da piacenza rispetto a chi invece come te andrea vivi poi tu hai anche tanti altri che vivono fuori quindi però perché tanti mogugni nonostante il momento buono comunque questo fa parte della genovesità è quella roba che ti dicevo prima sono quelle caratteristiche classiche che poi in un in un adesso non voglio entrare nella nella sociologia o nella politica ma è quella roba che cioè di vedere sempre bicchiere mezzo vuoto ok e che poi nella politica piuttosto che nella geopolitica o piuttosto che nella sociologia sono quelle cose che in una democrazia è facile criticare e che cavolo la democrazia è attaccabile sotto tutti i punti di vista però ci dimentichiamo che siamo fortunati a essere nati in democrazia e non dimentichiamoci che cosa abbiamo la gente che c'è morta per farci vivere liberi a noi scusate attaccato una pippa politica ma sono sono contro quelli che stanno sempre da lamentarsi è perché qua è perché là d'altra parte anche il modo in cui abbiamo visto in generale il susseguirsi delle nostre elezioni e dei partiti che hanno vinto nell'arco di cinque dieci quindici anni ogni volta vinceva quello nuovo cioè è come dire tutti quelli tutti quelli vecchi tutta l'importante è essere antigovernativi chiunque c'è destra sinistra l'importante è votare contro qualcuno che c'è stato prima senza accorgersi magari che ha fatto qualcosa di buono allora io questa cultura che purtroppo anche per quanto riguarda il genoa e mugugnone del genoa vedo anche nello sport e nella nostra genualità in alcuni non in tutti scusate il pippone io condivido tutto però il genoa anche ha un ulteriore dna secondo me dentro perché ad esempio la partita di venerdì sera no abbiamo vinto 2 a 0 se abbiamo quattro punti dalla terza però abbiamo partito come le bestie e siamo andati in trasmissione nel dopo partita che facciamo radio music for peace ad analizzare perché abbiamo partito come le bestie dando giustamente le colpe subito a qualcuno perché aramu ha giocato male coda ha sbagliato tanti gol ed è uscito fuori questo probabilmente questo bisogno no di di dover scaricare l'attenzione e le aspettative rivolgendosi e con i mugugni con il nostro modo di comunicare capiamo nei confronti di qualcuno però siamo mugugnone anche guarda io ti voglio infatti invece secondo me abbiamo patito venerdì perché il palermo è una squadra messa bene in campo che comunque ha giocato ha fatto la sua partita ma secondo me se c'era qualcuno proprio da criticare come spesso accade col referendum che fa stefano che ci manda qual è il migliore in campo qual è il peggiore in campo forse aramo coda non lo crocifiggerei forse aramo era un po spaisatone l'altro giorno ci ha sbagliato una serie di robe ma nel complesso a non crocifigo aramo perché magari una partita la fa bene l'altra fa male può essere umano ma ragazzi se abbiamo vinto 2 a 0 abbiamo tenuto campo su una squadra che tutto sommato ha non non perdeva da sei domeniche era insieme al frosinone erano la migliore squadra al momento in serie b ma che cosa vogliamo stiamo sempre a criticare ma perché ma dove allora la domenica precedente il sabato precedente scusa mi viene di default dire domenica il sabato precedente dove abbiamo pareggiato non facendo una bella partita cosa c'è cosa era domenica l'altra no abbiamo perso cos'era a parma a parma esatto abbiamo perso a parma e pareggiato col pisa allora magari abbiamo perso a parma e uno dice ok non abbiamo giocato abbiamo giocato male un giorno è riconoscibile critichiamo ma criticare quando vinciamo mi sembra proprio darsi la zappa sui piedi è coerenza ignazio vi interrompo interrompo un attimo perché la coerenza a volte poi sinonimo di ottusità è vero ne riparliamo poi dopo nell'ultima parte c'era carlo che voleva farlo forse che aveva una domanda su sì una domanda visto che si parla di colleghi si parla di set si parla di lavoro allora chiunque di noi diciamo che fa un lavoro normale si accapiglia magari con il collega al bar su rapporti di tifoseria per quanto riguarda ignazio succede la stessa cosa magari con qualche collega attore c'è qualche aneddoto qualche siparietto qualche zuffa verbale con cui hai scatenato la tua genuanità possono essere state tante adesso non me ne ricordo io di solito mi azzuffo guarda io la verità carlo mi devi perdonare non mi riesco a ricordare un aneddoto preciso ma mi azzuffo spesso con i gobbi che purtroppo ci sono anche a roma e o anche a volte con dei romanisti perché non tutti io non faccio mai di tutt'er bonfascio che sia chiaro ma la tendenza spesso e volentieri dei romanisti è di non essere obiettivi mai mai a differenza dei laziali i laziali sono molto più obiettivi cioè se io il genoa gioca male e perde come a parma e ti abbiamo perso meritatamente il parma ha meritato di vincere cioè lo vedo non ho nessun problema il romanista anche se fa la roma una partita di merda è capace di dire no però la roba che c'è l'arbitro però 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 cioè non sono obiettivi mai sono fin troppo partigiani ok e allora mi sono azzuffato tante volte con loro su questo tema dell'obiettività e della sportività coi gobbi anche su temi ben più ampi che hanno a che vedere anche appunto con 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 delle malefatte con della vere e proprie anche se a onor del vero in quest'ultimo episodio probabilmente non solo la juve dovrebbe pagare mi viene da pensare perché noi plus valenza ne abbiamo fatte a bizzeffe o no ho sbaglio poi non ho seguito benissimo la cosa perché non è che mi metta a leggere gli articoli della juve francamente già leggo poco di sport leggo solo genoa di sport però dibattiti sì ma però devo dirti la verità a roma almeno il genoano è molto rispettato molto specialmente da quelli un po più agé come me come noi perché tutti si ricordano il nostro gemellaggio e molti rimpiangono i bei tempi perché ormai la curva romanista ha preso una deriva di destra che che la metà basta quindi e anche di insomma di violenza gratuita peccato perché era mi piaceva leggiamo le cronache però voglio dire a roma e gero ha sempre fatto una brutta fine per colpa degli arbitri no come fai a digerire le certe partite con la roma con la roma sì sì è vero è vero è vero è vero hanno certe cose hanno anche non riconoscono poi tra l'altro certi food ricordo quel clamoroso episodio di pandeva roma non lo so non esista un rigore più 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 netto devo dirti una cosa devo dirti una cosa tra l'altro che io le partite a roma le vado a vedere sempre nel settore ospiti ma purtroppo con la roma non ci vado più proprio per questa cosa dei tifosi della roma cioè io mi ricordo andavo spesso sia vedere la roma 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 e lazio genua l'ultima volta che andai ormai sei o sette anni fa sono stato tutta la partita a guardare la curva nord se arrivavano oggetti verso di noi avevo mio figlio piccolo detto basta io con la roma non ci vado più invece con la lazio paradossalmente ti dirò a mio avviso sono molto più leali molto più leali dei romanisti poi non è mai successo niente mai né all'entrata né all'uscita né durante mai invece con la roma ogni volta sarà perché eravamo anche gemellati con napoli e quindi l'odio roma napoli quindi indirettamente sei un nemico anche tu passi la partita a meno quella volta passai la partita a guardare alla mia sinistra a proteggere il mio figlio dalla roba che ci arrivava detto mai più con la roma non ci penso c'è da dire che la roma soprattutto all'olimpico ma tante volte anche in trasferta i giocatori della roma sono dei grandissimi attori in campo quello bisogna dirlo e sanno assolutamente come innervosire gli avversari e irretire il pubblico quindi parlando di attori ne abbiamo uno raccontaci un po come nasce questa tua passione per per la recitazione e parlaci un po dalla tua carriera si un po lascia un po da parte la modestia raccontaci un po allora diciamo che alla fine della scuola quindi intorno al 18 19 la verità è che 19 perché sono stato bocciato un anno e non sapevo bene cosa fare della mia vita sicuramente mi piaceva molto il tema il teatro mi piaceva molto cinema ma avevo molti piedi per terra come ce l'ho anche oggi e quindi ho detto boh io comincio comunque l'università perché so che è una cosa importante per me stesso e anche per il non solo per la conoscenza e la crescita del mia in quanto essere umano e uomo ma anche per il lavoro ovviamente per il famoso pezzo di carta che comunque serve però nello stesso tempo voglio coltivare questo mio interesse e quindi andai a milano a fare l'università perché è un po tradizione familiare mandare i figli fuori da casa a fare l'università e mi iscrissi a scienze politiche e nello stesso tempo alla sera andavo a studiare teatro in un piccolo teatro di milano che si chiamava al tempo teatro 5 adesso si chiama centro studiatore al secondo anno di università e al secondo anno di teatro mi arriva casualmente in un provino provino di un regista che conoscevo che mi conosceva come persona e sapeva che stavo facendo un corso di teatro riesco a vincere questo provino il film era come due coccodrilli di giacomo campiotti a quel punto non è che ho detto ecco sono diventato attore assolutamente perché sono sempre stato molto umile e coi piedi per terra e ho ricominciato la mia università dopo quella bellissima esperienza sul set sul lago di como con gennini bentivoglio lagolino era un film molto bello molto delicato che succede che arriva un secondo provino con bernardo bertolucci ve la faccio breve perché anche quella meriterebbe una storia un racconto a sé morale vinco questo benedetto provino con bernardo bertolucci non mi pareva vero e nello stesso tempo in quel mese era un giugno del 94 si 94 avevo due esami all'università il provino con bernardo bertolucci e il provino per entrare in una scuola di teatro a londra perché volevo spendere il mio anno di militare che al tempo c'era ancora una regola che si poteva evitare il militare facendo avendo contratto di lavoro all'estero la cosiddetta brigata tamigi che poi hanno hanno si sono accorti che tanta gente aveva come dire dei dei contratti fasulli e quindi hanno capito io sono tra quelli non me ne vergogno perché secondo me al tempo il servizio militare non serviva assolutamente a nulla cioè o lo fai bene allora ti fai l'accademia oppure stare lì impalato non credo che servisse molto meglio il servizio civile morale riuscì a vincere tutte e tre queste cose e cioè il provino con bertolucci e quindi il film feci questo film i due esami all'università il provino alla scuola di teatro ero veramente tra penso in quei giorni tra gli uomini più felici al mondo finita l'esperienza sul set con bertolucci sono andato anche grazie a quei soldi con tanto orgoglio mi sono pagato la mia scuola di teatro a londra da londra facevo degli esami una tantum quelli più facili diciamo di lingua per non perdere la mia il mio il mio coro i miei corsi universitari poi sono tornato in italia a quel punto ho detto beh forse dopo bertolucci forse il caso di prendere in considerazione potrei provare a fare l'attore per davvero e quindi mi sono ritrasferito a roma dove ho cominciato di fatto a lavorare serie tv qualche spettacolo di teatro un film cinema un altro tv un altro spettacolo nel frattempo tra un film e l'altro mi facevo gli ultimi esami dell'università perché genova alla fine rispetto a milano come laurea finale perché per un discorso di economia degli esami a milano erano 34 gli esami a scienze politiche a genova erano 27 io stavo già lavorando e detto bene ci devo dare una botta e quindi mi sono fatto l'ultimo anno di università a milano scusami a genova e ho concluso mentre la laurea figurati stavo girando un film a trieste con juan mcgregor che faceva un film che si chiama nora sulla storia di james joyce e quindi ero anche conciato coi capelli e col pizzetto tipo primi del novecento e sono arrivata alla commissione d'esame alla commissione di laurea scusate il mio look ma sto lavorando faccio un mestiere strano sono arrivato con un pizzetto lunghissimo i capelli che poi i capelli vanno di moda anche adesso tutti rasati dietro e lunghi davanti era un po come i primi del secolo e poi è andata bene tutto sommato dai io sono molto contento hai nominato tu prima i grandi registi con cui ho lavorato per me è stato un onore ma poi è arrivato anche sorrentino è arrivato evin venders è arrivato recentemente abel ferrara però non 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 disdegno neanche tutti gli altri registi con cui ho lavorato anche quelli meno importanti per tanti anni io ho fatto ero abbonato agli esordi dei registi a film super indipendenti ed è stato bello molto anche se magari guadagnavi due spicci però erano sempre storie che che in qualche modo mi interessavano per carità non sono neanche mai stato uno snob anche se in passato mi era stato consigliato soprattutto da da bernardo bertolucci ignazio tu devi fare solo cinema la televisione al tempo cinema e televisione erano due mercati molto separati anche per gli attori e chiaramente io pendevo dalle labbra di bernardo però così facendo mi sono perso un sacco di treni cioè io non ho fatto tv per un casino perché bernardo mi aveva detto questa cosa per carità nella sua testa al tempo aveva anche ragione poi i due mondi due mercati si sono molto uniti c'è un interscambio non solo di registi ma anche di attori una volta se facevi tv non facevi cinema invece grazie a dio adesso è cambiato e quindi serie tv insomma è andata bene sono molto felice della mia carriera capito sono molto molto contento molto molto poi per carità è un mestiere molto precario questo è vero è oggettivo essendo un mestiere precario dove magari appena finisci un film hai un fermo di un mese o due però io in quel mese o due coltivo e ho coltivato altri interessi e soprattutto non sono mai stato fermo a me piace molto girare documentari non che io sia un regista con la r maiuscola però ne ho già girati una decina da ultimo l'ultimo che ho fatto forse il più importante anche il più ricco economicamente produttivamente è un documentario che ho girato nel carcere di padova che è una eccellenza carceraria dire eccellenza di un carcere fa un po sembra cacofonico ma è la verità nel senso che ci sono due carceri in italia padova e bollate dove realmente l'articolo 27 della costituzione che dice che il detenuto che la pena deve tendere alla rieducazione del detenuto vengono applicati quindi ci sono dalle cooperative alla chiesa o lo stato stesso per quanto riguarda bollate che mettono a disposizione per chi vuole e soprattutto per chi se lo merita la possibilità di lavorare di guadagnare di crearsi di creare un lavoro anche nel momento in cui escono fuori quindi questo è l'ultimo documentario che ho fatto ma ne ho girati tanti con la mia ONG giù in Africa sono andato tante volte giù tra l'altro un altro ancora forse il primo documentario che ho girato che non è mai uscito riguarda il Genoa fece un documentario su franco scoglio ai tempi e mai uscito perché appunto eravamo io un altro regista che si chiama marcom pagani che adesso un giornalista molto noto abbastanza noto e però non ci siamo divertiti molto ma non siamo mai riusciti a distribuirlo e che dire altri interessi ecco tornando non una domanda io su questo tema scusa che differenza c'è tra il fare un documentario come regista come giornalista non sono la stessa cosa oppure esiste una differenza questo perché ti citavo poco anzi il mio amico giornalista no in generale perché allora ti dico questo credo che ci sono due tipi di documenti ci sono vari tipi di documentari ok c'è il documentario giornalistico che può essere un servizio piuttosto che e poi c'è il documentario più narrativo che esplora non sto parlando di temi x o y ma che si pone nei confronti delle persone che vuole raccontare magari in un modo meno giornalistico e quindi guarda non essendo un giornalista non vorrei dire cavolate ok non sono un giornalista diciamo che io il mio approccio da regista ai documentari è sempre stato un approccio di indagini delle umanità indagini delle umanità e per indagare un'umanità non puoi altro che far sì che tu stesso empatizzi con quelle umanità perché se no non riesci a raggiungerle questo è quello che credo poi a me piace molto raccontare il mio tempo e quello che accade nel mio salario la mia formazione di scienze politiche o anche la politica che ho sempre respirato in casa cioè per me l'attenzione alle cose che accadono nel mondo è sempre stata una cosa importante forse anche lì ci sono giornalisti giornalisti ci sono giornalisti di serie a giornalisti di serie b e giornalisti di serie c quindi probabilmente anche un giornalista di serie a può fare un bellissimo documentario è sempre la chiave narrativa che forse cambia forse il giornalista tende ad informare a raccontare una realtà per quella che è quindi non è un discorso di format vero e proprio cioè mi spiego meglio anche anche forse giornalista fa più servizi per i telegiornali o per il giornale però poi ci sono dei giornalisti che che ti dicono anche la tua la loro opinione no ci sono ci sono dei giornalisti che ti danno la loro opinione sul tema e secondo me quelli non sono dei grandi giornalisti penso che ricordare pio d'emilia che è mancato da poco giornalista che io ho adorato tantissimo i documentari sono meravigliosi meravigliosi esatto ma infatti lui è un giornalista di serie a perché racconta come penso che lo sia mia moglie perché ti racconta il fatto non ti dà la sua opinione l'opinione te la devi fare tu poi ci sono gli opinionisti che è un'altra cosa cioè adesso a me a me non piace parlare male delle persone ma ci sono dei giornalisti che io non stimo non solo perché secondo me non adempiono alla professionalità del loro mestiere il loro mestiere è informare darmi la realtà dei numeri delle cose dei fatti l'opinione poi me la faccio io però poi è ovvio è umano noi siamo in una è anche umano invece sono dei giornalisti che invece ci tengo sono due tipi non è giusto o sbagliato io preferisco più quelli che mi danno i fatti e l'opinione me la faccio io tendenzialmente all'inglese carlo c'è un attacco alla categoria non è vero non è vero carlo è il primo che ho mia moglie giornalista ma carlo devo dire che è il primo dal lato sportivo che spesso sottolinea come alcuni giornalisti sapete negli stadi di tutta italia le battaglie che si fanno con i colleghi perché insomma questo quell'altro quindi insomma la mamma dei cretini è sempre incinta in qualsiasi professione quindi quello che ha detto ignazio è è senz'altro legittimo e sacro santo e posso sottoscriverlo come penso in tutte le categorie una cosa mi viene da sottolineare tu ignazio penso che abbia vissuto uno dei momenti più alti della genuanità un sogno oltre a quello che abbiamo tutti noi magari di fare un gol sotto la nord che è quello di andare dal papa a donargli una maglia del genoa e di poter parlare del grifone con il santo padre capisci la mia malattia penso che quella sia stato uno probabilmente il momento più alto della tua genuanità sì scusa scusa ignazio se mi intrometto ultimamente mi sembra che abbia una connection con la chiesa lui perché fra the young pope the new pope padre pio sono quasi colleghi ormai attenzione padre pio padre pio non facevo il prete a differenza di pop così come sì sì allora quello lì sicuramente è stato un momento altissimo di genuanità e genuanità esportata verso alte cariche spirituali piuttosto che celesti perché gliel'ho portata perché so che lui è tifoso di calcio perché so che è una persona umile e simpatica e quindi ho detto io devo andarla conoscere e allora lui mi deve conoscere anche a me e quindi gli ho portato in quell'occasione la maglia del mio documentario perché sono stato invitato da lui in occasione del in in un'occasione specifica di in cui lui ha visto il mio documentario e un altro di due registi uno io e un altro perché ha visto il mio documentario perché dovete sapere poi magari vi giro il link mi fa piacere se lo vedete perché il virgilio del mio documentario cioè chi ci porta di fatto dentro al carcere è il cappellano del carcere che è un prete giovane in gambissima di quelli proprio in gamba ovviamente lui è il virgilio ma poi io in sento tutti sentirete tutta la popolazione dall'ultimo detenuto cioè dai detenuti che sono tre in questo caso che racconto e che si raccontano al direttore del carcere agli psicologi ai alle guardie alla polizia penitenziaria quindi se racconto un mondo lo racconto con tutti i protagonisti e non vi dico che è stato un lavoro di un forse il lavoro più difficile che ho fatto in vita mia perché lì come ti muovi sbagli cioè fai un passo in più e meno e puoi ledere la sensibilità di uno o dell'altro un lavoro faticosissimo ma umanamente ed emotivamente tra i più belli che ho fatto in vita mia per questo ci tengo che che voi lo vediate quindi essendoci stato il cappellano del carcere conosceva bene conosce bene papa francesco gliel'ha mandato e ci ha ricevuto quindi questo per tornare a come ci sono arrivato questo grazie al cappellano del carcere di padova l'incontro con lui poi è stato meraviglioso perché io so che lui tifa san lorenzo che tra l'altro ha gli stessi colori nostri sapevo che era uno che amava il calcio quindi gli ho portato la maglietta del mio documentario che si chiama tutto il mondo fuori e poi gli ho portato la maglietta del genoa e ci ho fatto stampare su francesco e lui ha molto apprezzato io ho una bellissima foto qua che mia moglie mi ha fatto incorniciare mi ha fatto su una tela carina dove tutte e due ridiamo come dei matti non so se te l'ho mandata stefano no vabbè tornando un attimo al cinema se qual è il lavoro di cui sei più fiero e non ti chiedo quello di cui sei meno fiero perché a me le classifiche dei peggiori non piacciono però sicuramente quello è quello nel quale ritieni che sia uscito il il miglior ignazio oliva come come attore magari c'è lo stesso lavoro però sì perché del più fiero e dove ne esco meglio forse lo stesso e devo dirti che è un film che abbiamo girato a genova che si chiama onde è girato da francesco fei eravamo anita caprioli e dio i due protagonisti era una storia d'amore tra una ragazza che aveva un'enorme voglia macchia quindi sul viso ed io che interpretavo un cieco e per un attore affrontare una cosa così lontana dalla realtà è una delle delle sfide più difficili per questo dico che ne vado più fiero e sono più contento di me del lavoro fatto anche perché probabilmente anzi sicuramente è il film in cui ho avuto più premi non che io ne abbia avuti tanti in vita mia ma è quello dove ho avuto più premi perché perché interpretare un cieco è una roba veramente difficile per di più qualsiasi ruolo lontano da te è difficile ma è anche il bello della sfida di questo mestiere in questo caso era anche una difficoltà fisica e quindi in più il regista voleva che io avessi gli occhi aperti quindi difficoltà nella difficoltà nella difficoltà aggiungi una difficoltà dammela ecco era lì e l'approccio a quel personaggio è stato diciamo da un punto di vista metodologico sono andato innanzitutto ho letto tante cose se vi interessa vi racconto brevemente faccio sì sì assolutamente l'approccio è stato questo innanzitutto tante letture letture su di persone anche lì la prima differenza è se sei nato cieco o se lo sei diventato quindi c'è già uno spartiacque già un enorme differenza tra le due condizioni nel caso del mio personaggio era un ragazzo che era diventato cieco successivamente quindi prima vedeva e paradossalmente è ancor più difficile per l'essere umano ok nasci cieco impari bene umano a convivere con quella con quella con quel problema poi quindi mi sono letto tanti libri di persone che sono diventate cieche poi ho seguito una ragazza cieca anche lei è diventata cieca qua su Roma l'ho seguita per due settimane nella sua vita di tutti i giorni e poi sono andato anche a vedermi i film dei grandi attori che hanno interpretato dei ciechi e mi sono fatto un'idea e alla fine ho fatto ho scelto insieme al regista d'accordo con me una sorta di compromesso tra quello che è l'immaginario collettivo dei vedenti me compreso e la realtà perché nella realtà un cieco con gli occhi aperti non ha noi noi pensiamo noi immaginario immaginario collettivo pensiamo che il cieco con gli occhi aperti c'ha lo sguardo fisso ed è una mussa non è vero dipende da quello che ti è successo negli occhi da quale è stato l'incidente che ha provocato può avere gli occhi aperti e sbattergli in continuazione può avere la palla dell'occhio che va da destra a sinistra può tenerli su sempre su può tenerli sempre giù può averli fissi quindi però per la maggior parte delle persone che non sanno queste cose la fissità è un elemento distintivo di chi è cieco quindi io ho fatto un po quello e un po mi sono ho trovato insieme al regista perché poi sai c'è anche un altro soggetto che ti guarda ancora più importante del pubblico che è la macchina da presa e quindi il primo che ti guarda è la macchina da presa quindi abbiamo fatto delle prove sugli sguardi tecniche meramente tecniche su quale potesse essere lo sguardo più efficace su come l'occhio si sarebbe insomma non vi sto attaccare una pipa di due ore ma è stato il lavoro di cui sono andato più fiero perché era il più difficile come dicevi tu ci sono stati dei film in cui come dire non erano dei film che mi sono piaciuti o dei generi che non mi sono piaciuti ma non sono mai stato snob perché un attore deve fare tutto già ha il privilegio primo di fare il mestiere che ti piace e già questo è un privilegio che che pochi hanno nella vita e già su questo devi ringraziare il dio che riesce a campare del lavoro di ciò che ti piace e già su questo uno deve stare zitto io faccio tutto non ha importanza un film di un regista del cavo fa niente è già un privilegio due deve fare tutti i generi un attore deve saltare io ho fatto anche i film di moccia ok film più commerciali scusa ti voglio sposare scusa ti voglio scusa se ti chiamo amore sono film più commerciali che e beh oliva si oliva salta da bertolucci a moccia e allora senza non la togliere a moccia sono film più commerciali che hanno un altro pubblico non sono film intellettuali è una storiella pace però a me mi permette di campare di vivere e quindi ringrazio moccia che ti poi tra l'altro quei film sono quelli che ti danno anche molta più notorietà perché sono quelli più visti cioè onde l'abbiamo visto io mio padre mia sorella e altri 18 amici non è un film che è stato distribuito tanto sì i critici che tra l'altro qualcuno mi ha dato anche i premi l'hanno visto chi gli addetti ai lavori ma non è un stato un film che è stato distribuito la grande morce cioè a me mi fermano per strada non per young pop sì qualcuno per bertolucci vabbè ma quello perché bertolucci lo distribuisci ovunque e va da sé ma a me mi riconoscono molto per le serie tv chiaramente la tv ha un pubblico molto più ampio braccialetti rossi tutti i pazzi per amore una grande famiglia no adesso fra poco esce una serie dove ci sono anche io ma perché quello è la tv ha il grande pubblico purtroppo il cinema più andiamo avanti nel tempo più e me ne dolgo e mi rattristo le sale scompariranno se continuiamo così. Andrea avevi una domanda? Sì il tema della cecità è un tema che mi interessa molto perché facendo radio la radio è lo strumento di comunicazione preferito diciamo da chi ha problemi alla vista e ti apre tutto un mondo entrare a che fare con la cecità con le persone che hanno questo tipo di problema però la radio è anche il mondo della musica e non ti ho ancora sentito parlare di musica sei appassionato di musica e se sì di che genere che gruppi? Molto molto non ti nego che invecchiando l'ascolto sempre meno e me ne dolgo gli unici momenti in cui l'ascolto è in macchina però sono stato un accanito ascoltatore di musica io essendo un po' vecchietto io sono un rocchettaro ok tendenzialmente nutrito da ogni genere di musica perché anche nella mia famiglia in casa mio papà suonava faceva jazz quindi sono cresciuto anche con quella musica ho spaziato i miei dischi c'ho ancora molti 33 giri a qualche 45 o sono pieno di cd di veramente ogni genere di musica ma se tu mi se ti devo dire proprio qual è la musica che che ancora mi fa vibrare tanto è sempre il rock dai le zeppeli in avanti insomma sono rocchettaro cosa vuoi che ti piace un bel film musicale sei sei bravo a cantare allora attenzione attenzione come avete visto come diceva anche il nostro stefano sono abbastanza modesto è vero però andrea io so cantare bene sono intonato ho il culo di essere intonato da qui a dire sono cantante c'è ma un mare ok perché è un'altra roba però il mio sogno è poter fare un musical veramente sarebbe veramente figo fare poter fare un musical mi divertirebbe molto la cosa però anche lì ci vorrebbero lezioni lezioni di canto prima di affrontare un musical adesso lo dico così ma poi la verità è che mi cagerei addosso perché cantare in un musical è una roba dove devi usare la voce per un'ora e mezza non so se sarei in grado però a mio figlio piccolino io suonicchio un pochino la chitarra strimpello cinque sei accordi ogni giorno c'è il momento del canto con mio figlio piccolino mi metto con la chitarra gli canto due tre canzoni sto cercando di imparare quella di brash però io il barreno lo so fare quindi quindi purtroppo dovrà aspettare ancora un po a proposito di brash tu invece sei stato protagonista del video di un'altra canzone che parla di genua di mitossi e pagano un'altra stagione bellissima altra stagione certo nel quale tu fai proprio la parte di un pescatore che tra l'altro è una tua passione mi pare di capire malata anche quello e anche la la il ruolo del padre con il bambino bellissimo bellissimo video beh è stato molto bello quando mi ha chiamato ero felicissimo io ogni volta che mi chiamano per fare delle cose del genoa io sono felice devoto appassionato ed entusiasta come quella che stiamo facendo qui noi quattro noi tre e noi quattro oggi bitossi mi chiamò ci conoscevamo mi ha coinvolto in questo progetto insieme al regista che tra l'altro regista è genuano ma non genuanissimo cioè in gamba molto in gamba che lui bravissimo ci siamo molto divertiti poi ero nella mia dimensione più bella cioè su una barca in mezzo al mare quindi in più nell'altra dimensione che amo molto che è quella di essere padre ci metterei una firma a fare cose così tutte le volte devo dirvi che invece per il genere un'altra cosa che ne ho fatte altre due una era un video di una campagna abbonamenti di qualche anno fa e poi un'altra cosa di cui vado ancora più orgoglioso è la voce narrante di un piccolo documentario che ha fatto ivano mucchi che è un tifosissimo conosco conosco ivano salutiamo ivano se assolutamente se ci ascolta di up the scars e lui fece insieme un altro amico questo documentario che si chiama gradinata nord dove si racconta appunto un po cos'è la genuanità e un po tutte le fasi preparative di un derby e io ho fatto la voce narrante lì io saluto michele bitossi allora scusa che tra l'altro è stato ospite più volte delle nostre trasmissioni sia su radiosena anch'io lo saluto e lo ringrazio ancora per avermi coinvolto in quel progetto mic e a proposito di gradinata nord di tifo diciamo molto acceso e colorito ho letto qualche passaggio dove ignazio dice io sono un bravo ragazzo ma vorrei interpretare un hooligan cosa c'è di vero quanto c'è di manipolazione del giornalista e quando e quale è poi la tua vera identità a livello di tifo se sei più un tifoso diciamo da divano curvaiolo trasfertista allora vado prima la prima domanda quanto c'è di vero in quello che ho detto c'è molto di vero non è stata nessuna interpretazione errata del giornalista è un esempio l'hooligan era un altro modo per per dire di come è bello affrontare da un punto di vista personale delle delle personalità che sono lontane da te io non sono uno che si è mai menato allo stadio quindi questo era il senso no non sono uno violento nella vita no non che tutti gli hooligans insomma adesso entriamo in un tema delicatissimo mi piacerebbe era un esempio per dire sì mi piacerebbe fare un hooligan mi piacerebbe fare un ruolo che si allontana da me ok perché perché è interessante affrontare da un punto di vista professionale proprio quelle quelle note che che sono lontane da quello che sei e anche questo essere attori ed è anche il bello di questo mestiere poter toccare affrontare delle mentalità delle psicologie lontane dalla tua capire perché quale sono le motivazioni che spingono un nazista a prendere un ebreo e a mettere in un forno crematorio capisci mi è capitato a teatro di fare un nazista mi sono letto dei libri incredibili su questi personaggi e tornando all'Ignazio quanto tifoso quanto da salotto o da stadio sicuramente io sono più da stadio che da salotto e ti dico di più a me il mondo ultras mi ha sempre affascinato affascinato nel bene e nel male calcola che io avevo avrei voluto fare la tesi mia di laurea sul mondo degli ultras andai a chiacchierare a milano col professor dal lago che è un professore di sociologia che aveva scritto un libro in quegli anni sugli ultras perché uno perché anche anche allora parliamo ormai di 15 anni fa anche di più no di più 20 quando mi sono laureato era 97 sì quindi di più mi piaceva raccontare qualcosa del mio tempo e in più mi piaceva raccontare qualcosa del mio tempo che non era stata ancora raccontata la verità è che poi ho visto che sul tema ultras erano state scritte tantissime cose da non solo da italiani da europei da americani quindi mi sembrava cioè o andava a fare un'indagine specifica particolare oppure era un po' un copia e incolla di tante teorie e di tanti scritti già appunto pubblicati quindi alla fine decisi di fare una tesi di laurea su greenpeace il movimento ambientalista perché comunque ancora se ne sapeva cioè si sapeva si sapeva delle loro azioni erano i primi anni non i primi ma insomma era già un po' di tempo che venivano fuori e ho voluto raccontare qualcosa del mio tempo di abbastanza contemporanea di abbastanza nuovo non così raccontato in giro però nel mio cuore io non solo fin da piccolo compravo super tifo regolarmente cioè a me mi è sempre fascinato questo mondo ultras sarà il tema della dell'identità del gruppo la sociologia dei gruppi la metafora della guerra ma anche qualche scazzottata per carità le diatribe i codici d'onori la lealtà la mentalità adesso si parla di mentalità ultras è un tema molto delicato come la dici sbagli perché avrai sempre qualcuno che ti contesterà ma io ho come dire chiaro in mente quali sono i miei limiti di ignazio nel momento in cui va allo stadio nel momento in cui incontra un avversario nel momento in cui possono mi sono trovato tante volte tante volte ragazzi mi sono trovato in situazioni non piacevoli ma per esempio le famose lame cioè per me è una cosa che non esiste né in cielo né in terra cioè quella non è essere ultras usare i coltelli ok così come non esiste se uno è a terra che in 50 gli vanno a calciare a continuare a minarlo cioè sono tante cose a me quel mondo un po affascina mi ha sempre affascinato e a me tra stare sul divano o stare ingradinata a cantare a urlare anche a mandare affanculo anche insultare fa parte del gioco non voglio essere tanti ipocriti non lo sono perché io insulto mi ricordo una volta a proposito di aneddoti meravigliosi scusa e poi mi invitarono a quelli che il calcio ok due qualche anno fa andai a qualche puntata con quelli del calcio durante un derby ma porca troia proprio il derby mi tocca andare cioè non posso andare ingradinata capito durante però vabbè mi pagano per andare a vedere il genoa chapeau va benissimo quindi cosa succede che eravamo se non erro con un non mi ricordo manco come si chiamasse ma era un ex giocatore della samp che faceva il modello ai tempi cosa succede che io entro nella tribuna appena esco dal varco per raggiungere sui gabbiottini dei giornalisti dove poi c'era la diretta di mai dire di quelli che il calcio entro e sulla mia destra avevo la sud e io distinto alzo sul dito medio verso la sud così mi mando a fanculo toh merda cioè proprio del cuore è così cosa vuoi dire oliva sì oliva torno su mi alzo vado a raggiungere la postazione morale durante la partita c'era un secolo 19 online che ti commenta ogni 30 secondi quello che sta succedendo nello stadio anche nel pre partita e mi fanno vedere che c'è scritto oliva entra e alza il dito medio verso la sud è una medaglia al merito questa ma scherzi è la dimostrazione di quello che sei veramente parlando scusa se ti interrompo però è citato è citato due argomenti importanti come l'ambiente carcerario e il mondo degli ultra e allora se sommiamo queste due cose a genova abbiamo avuto una persona importantissima per dare una mano sia le persone che uscivano dalla galera sia alle persone che magari erano nell'ambiente ultra che è roberto scotto che purtroppo non c'è più chissà che magari un domani ti possa venire l'idea di fare un film su di lui perché roberto è stato un personaggio meraviglioso tra l'altro noi come radio abbiamo avuto l'enorme fortuna di godere della sua fiducia e di averlo ospite in una trasmissione che doveva durare un'ora poi alla fine è durata tre ore che parlava di lui tramite la musica che voleva proporre raccontato la sua storia raccontato di quanto sia difficile la vita del carcere uscire fuori di quanto ci sia bisogno di qualcuno che dia sempre un po una mano a queste persone che hanno enormi difficoltà non soltanto quando sono dentro ma soprattutto poi quando escono e dell'ambiente ultra inteso come uno strumento di aiuto proprio per persone che probabilmente nel mondo normale tra mille virgolette sono sono emarginate mentre poi all'interno di questi gruppi possono vivere una loro dignità ecco diciamo così guarda che anche la cosa bella la cosa bella della nostra gradinata ma non solo della nostra che cioè come dire il gruppo diventa anche mezzo di aiuto e sensibilizzazione di tante realtà e di tante non per forza soltanto nei momenti drammatici degli alluvioni ma anche come dicevi tu stesso scotto in momenti in cui non c'è un'emergenza oggettiva come un alluvione ma dove ci si mobilita anche per altre cause ok e questo mi piace molto e sarebbe una cosa utile utile anche all'immagine degli ultras che spesso e volentieri non vengono raccontati in toto e per carità degli errori rifanne come che sia chiaro ma non parlo tanto dei nostri oppure se vogliamo concentrarci anche sui nostri volentieri proprio per dirti la politica secondo me in ingradinata non dovrebbe esserci mai mai ok un conto del passato la storia gli ultras nascono durante dei movimenti durante gli anni caldi in cui i movimenti politici avevano un enorme attivismo e quindi anche i nomi fedain ultras brigate cioè nascono tutti in quegli anni settanta no sull'onda dei movimenti studenteschi e dei movimenti insomma durante gli anni settanta politici esatto poi che siano comunque lo specchio in qualche modo di un certo tipo di società lo sono gli anni ottanta è vero tutti di destra tutti di destra perché a destra però secondo me per esempio la politica non dovrebbe mai entrare in gradinata o in curva in generale sono proprio due cose che non c'entrano però ormai è difficile perché è così inevitabilmente è così da noi meno da quando non c'è più la brigata speroncia non c'è più ecco ma non che a me non piaceva sta cosa della politica la fossa era di sinistra ma erano altri anni poi la fossa si è sciolta e a quel punto c'erano tanti gruppi tanti gruppi con le proprie identità di quartiere di personalità di però la politica non era mai centrata con loro con la brigata speroncia a un certo punto infatti si ma se non è che noi fatti del g8 alcuni gemellaggi che si sono rotti sono stati rotti proprio per motivi legati a politica vedi napoli vedi col napoli dove a onor del vero anche i napoletani hanno un po' esagerato questa storia cioè non è che tutti i genoani hanno esposto lo striscione per dede o sono andati ai funerari di dede no fermati si sono andati di quelli non è che tutti i genoani bene e per chiudere un attimo la parentesi cinematografica tu hai citato un paio di lavori che hai fatto che parlavano di genoa appunto il video di vitossi pagano il documentario come voce narrante della gradinata nord la mia domanda è hai mai portato il genoa su un set cinematografico che non c'entrasse niente nel senso qualcosa di genoa in un tuo film sì sì mi sembra che da qualche parte ce l'ho buttato dentro guarda quando posso mi accade non lo so fai conto io nella mia cover del telefonino c'ha il classico griffoncino appiccicato l'adesivo no perché non vivendo a genova non ho la cover quella originale quindi me la faccio sempre io con l'adesivino e a volte quando c'erano delle scene al telefono pigliavo la mettevo a favore macchina cioè pur di far vedere il griffone non facevo vedere la mia faccia lì oppure aspetta aspetta vabbè poi in un in un corto ma lì si parlava di genoa è un corto di un'amica che si chiama frizzi maniglio che si chiamava la sciarpa era proprio un piccolo corto girato ingradinata nord e quindi va bene lì era più facile però sì sì ce l'ho buttato dentro qualche volta adesso non mi viene tra l'altro invece quando dicevi hai mai portato il genoa a vedere ho capito che era metaforico ma una volta sono venuti davvero quando ho girato il documentario di scoglio su scoglio l'anno successivo sono venuti a genoa con uno spettacolo di teatro che era sacco i banzetti e sono venuti dei giocatori sono venuti a te li ho invitati e vennero al duse a vedersi la la spettacolo quindi due tre di loro quindi ero molto contento di questo però nel cinema sì ma io appena posso ce lo butto dentro anzi tra l'altro in questa serie che uscirà domenica prossima girata a napoli una delle forse la prima volta in cui io faccio un genovese perché la regista mi ha detto qua sono tutti di napoli sono tutti di napoli eccetera a me piacerebbe che tu parlassi genovese ma guarda io sono perfetto allora mi fai questo leggero accento genovese e è stata la prima volta che facevo questo leggero accento genovese c'è un problema le diceva la regista però guarda però mi devi cambiare il cognome perché questo si chiama in prota ma no non ti preoccupare magari è figlio di immigrati allora nella sceneggiatura ho cercato di cambiare delle cose è perché allora lo faccio santo ma no no ma quello ecco quello rinuncio al ruolo pensa un po se ti chiedessero di fare una parte beh sei attore hai detto a fare qualsiasi cosa non la faccio quella non la faccio quella non la faccio devo fare un tifoso e di questi giorni la 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 cosa appunto di planca che ha vestito una maglia della sampdoria tra l'altro risolta con un parietto simpaticissimo proprio di oggi di lastrico lanca se la bianca da serie e la giannesso ha messo la perché c'è paci che santo riano che uno dei protagonisti del telefilm allora in una scena lei veste la maglia della sandoria allora è riuscita sta cosa qua e e oggi vergogna è stata risolta brillantemente dal lastrico insieme alla giannetta si parietto simpaticissimo su instagram e quindi cioè che hanno messo la maglia del genoa mi auguro ha messo la maglia del genoa poi elastico ha detto questa di calcio non ne sa niente non sa neanche cosa sia il genoa sandoria dovrebbe metterla dovrebbe metterla in una scena della serie allora sì e quindi e ultime domande sul cinema allora stavi anticipando il tuo prossimo lavoro appunto dici un po su cosa stai lavorando sì sì e poi invece i documentari sono reperibili soprattutto per noi che viviamo all'estero visto uno su youtube sicuro quale dici quelli su quello del carcere su youtube c'è no no quello del carcere su youtube no perché era discovery channel e quindi ancora su piattaforma discovery però se voi andate su però diciamo che quello ve lo mando a voi in un link privato perché ancora su discovery channel sulla piattaforma però la piattaforma non ti puoi cioè devi fare il pacchetto comprarlo quindi lascia perdere vi giro il link mio personale per voi allora progetti cosa c'è c'è il film di abel ferrara che deve uscire ancora siamo andati a venezia a settembre è stato accolto molto bene adesso bisogna capire qual è la distribuzione e quando uscirà è una bella storia che non affronta solo il tema di padre pio in sé ma padre pio in un momento storico particolare perché abel ha voluto raccontare la tragedia di san giovanni rotondo che pochi sanno devo dirvi vero anche io non ne sapevo molto ma nel 1921 quando ho 20 più o meno in san giovanni rotondo provincia di foggia per la prima volta vinsero le elezioni i socialisti e andarono per insediarsi nel comune ma vennero ammazzati da poliziotti e da carabinieri e i primi conservatori futuri fascisti insomma ammazzarono 20 persone quindi il film era con le linee narrative sono queste due da un lato padre pio da un lato questa tragedia e quindi come padre pio in qualche modo accoglie e conforta una popolazione stremata da questa tragedia poi c'è questa serie che si chiama questa serie l'altra sera tra l'altro che si chiama resta con me girata da monica voullo arca protagonista e io lì faccio un capo della scientifica sono dei gialli ci sono c'è una linea narrativa che attraversa tutte le 12 puntate e poi ogni puntata c'è un singolo caso poliziesco da risolvere è stato molto bello arca molto carino molto generoso troop amici di colleghi generosi anche loro e poi questa scusa va su rai 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 va su rai da domenica prossima ok e poi ciò in cantiere il comincerò purtroppo è stato insomma è stato rinviato dovevamo cominciare a marzo invece cominceremo a settembre il prossimo film di edoardo windspire che è un regista salentino molto bravo di cinema e sono molto contento perché non solo di girare con lui che che conosco da tanti anni non c'eravamo non abbiamo mai lavorato insieme ma poi sono molto contento perché giro nel mio amato salento che è appunto come ti dicevo al telefono l'altra volta è la mia seconda terra d'adozione io ho una casa lì in provincia di lecce da quando sono nato per questo simpatizzo lecce come seconda squadra perché una buona fetta del mio cuore appartiene al salento e quindi gireremo lì perché edoardo windspire gira sempre tutti i suoi film in salento e spesso e volentieri in dialetto salentino e quindi questo è in cantiere c'è anche quello poi ci sono un paio di idee documentaristiche perché mi piace sempre questo fare la regia di documentari però diciamo che per ora sono ancora nella mente nulla di concreto e poi c'è un ipotetico spettacolo di teatro che mi piacerebbe molto portare anche a genova perché si tratta di una storia di un uomo di chiavari però purtroppo non vi posso dire niente ragazzi perché non vogliamo assolutamente non pescare amanzia perché non c'è niente di oggettivo e stiamo andando in giro a cercare soldi per farlo che è una cosa un po tra il teatro e la lettura però perfetto lo dico su giannini colui che ha inventato la banca d'america che prima si chiamava banca italiana assolutamente è una storia interessantissima che ho scoperto di recente infatti mi sono sempre mandato come mai pazzesca e anche io mi sono domandato come mai io non la sapessi neanche perché è una storia meravigliosa una storia di migrazione e di generosità e di fiducia perché questo uomo ha dato dopo il terremoto a san francisco dei primi del secolo elargiva prestiti a cani e porci guardando solo le mani delle persone italiane ovviamente la maggior parte per ricominciare guardando le mani per vedere se aveva i calli se sono dei lavoratori veri o no calcola che il 97 per cento dei prestiti che ha dato sono ritornati parliamo i primi del secolo e poi ha fondato un impero aveva già in mente di introdurre il tasso sui prestiti no gli faceva più bassi rispetto alle altre no bellissima storia bellissima sa lui faceva dice non è una cosa non si possono fare dei tassi così alti di prestiti alle persone che non hanno più niente se le banche normali lo facevano al 6 lui le faceva al 2 e ha riavuto tutto grandi andosi di persone che mettevano una firma con la x che non sapevo neanche come si chiamava però sono tornati lui andava al porto di san francisco a prendere a dare prestiti alle persone dopo il terremoto come una storia eccezionale eccezionale vediamo se riusciamo a portarle in porto perfetto bocca al lupo e viva il lupo e prima di passare alla parte calcistica volevo aprire una piccola parentesi su l'ignazio l'iva impegnato nel sociale e ha citato della ong non so che ruolo abbia di preciso lui in questa organizzazione raccontaci un po visto che oltretutto andiamo su radio music for peace quindi andrea sicuramente delle domande su questo sì vi racconto vuoi farmi la domanda andrea o dopo ti racconto mi farebbe piacere sapere quello che fai poi magari esatto approfondire il tema nel 2004 ho conosciuto per la prima volta in vita mia cosa vuol dire terzo settore cosa vuol dire nella mia testa di ragazzo avevo sempre in mente di mettermi in gioco e andare a fare un'esperienza di volontariato non sapevo dove non sapevo come eccetera infatti mandavo l'anno in cui poi ho finalmente deciso di mettermi in gioco e quindi di provare più seriamente avevo 2004 avevo 34 anni 33 34 mandai il mio curriculum alle varie ong però mi arrivavo al curriculum di un attore diciamocelo cioè a parte scienze politiche e le lingue che ho la fortuna di saperne un po che era quello forse l'unico appeal che mi poteva permettere per il resto era un curriculum di un attore ok scienze politiche e le lingue e infatti nessuno mi ha mai cagato poi le cose accadono perché devono accadere e ho incontrato veramente casualmente alla festa di un di fine film di onde appunto la festa di fine film di onde il film che città che ho citato prima quello dove interpretavo il cieco abbiamo fatto l'ultima scena alla stazione di milano e lì a fine film abbiamo fatto la festicciola e qui in questa festicciola in questa bellissima trattoria milanese di quelle un po fuori col calcio balilla e due vecchietti praticamente tutti i mezzi imbriachi a fine serata c'era tanta gente che non conoscevo e mi ritrovo con a fianco un ragazzotto bello posato grasso abbastanza grasso a giocare con me io in porta e lui all'attacco e prendete cosa succede che ogni volta che chi vince restano siamo stati due ore e mezza cioè non ci batteva nessuno a me a lui morale questo è il capo di un ong e gli detto ma scusa tu davvero è un ong che squadra tifi innanzitutto toro io genova meraviglioso allora andiamo d'accordo anche su quello lui era il capo di questa è tuttora il capo gianmarco elia di questa piccola ma serissimo ong che si chiama amani è un ong che si occupa di bambini di strada in kenia e zambia abbiamo dei centri di accoglienza importanti in kenia più nella baraccopoli vera e propria di nairobi in una delle tante a lusaka invece è più una dimensione campagnola cioè più è fuori la città abbiamo le nostre piccole terre i nostri orti le nostre cose e lì diciamo che io ho chiesto a gianmarco di mettermi di darmi la possibilità di fare questa esperienza e sono andato la prima volta e sono stato un mese a nairobi dove tra l'altro ho girato il mio uno dei primi piccoli lavoretti che ho fatto per amani che racconta la storia della squadra di calcio della nostra baraccopoli fondata dalla nostra ong che si chiama amani gli assets football club e questo è stato il mio modo di incontrare insomma diciamo che uno pensa sempre di andare giù e dire voglio andare a dare una mano per carità è una spinta bella generosa però la verità è che prima devi andare giù guardare capire conoscere e e poi quel paradossalmente succede che che a volte è molto più bisogno tu nel senso che che hai bisogno di imparare e di conoscere prima ancora di andare a dare però è stata un'esperienza incredibile infatti io ci sono tornato svariate volte ho girato altri piccoli lavori diciamo che ho messo le mie competenze al servizio di questa ong ma non solo quando sono andato lì girando dei piccoli lavori documentarietti che potessero essere anche utili per la raccolta fondi per far conoscere chi siamo e cosa facciamo ma su roma spesso e volentieri in questi anni ho organizzato delle serate di crowdfunding o anche solo di conoscenza di chi siamo perché per noi si è importante anche il denaro ma è importante sensibilizzare far conoscere cosa succede per carità queste cose succedono anche in italia no a volte uno dice sai però succede pure a roma che ci stanza è vero succede a me è capitato di incontrare questa realtà e quindi questa vi racconto quindi ho riunito spesso e volentieri degli attori amici cari che ne so la santa maria la cortellesi una serata facciamo serata comica dei piccoli happening in per amani per noi per portare più gente da ultimo l'altro anno abbiamo fatto una cosa bellissima a milano dove è venuto di nuovo santa maria anche mandelli abbiamo fatto uno spettacolo super improvvisato con tutti i nostri volontari in giro per l'italia li abbiamo li abbiamo messi a fare le improvvisazioni cioè ragazzi come noi non professionisti abbiamo fatto le improvvisazioni abbiamo cantato è stata una serata meravigliosa comunque sono legatissimo a questa ong e continuerò a esserlo sono socio ormai da tanto tempo e questo sono un po quello che facciamo cercare di dare una mano giù soprattutto ai bambini di strada poi nella metodologia se vuoi te la racconto un'altra volta perché anche lì non è che i bambini vengono e li teniamo chiusi perché è un centro il nostro centro non è coercitivo se uno vuole se ne va c'è un centro di primissima accoglienza noi poi cerchiamo di metterli in contatto con le famiglie cioè cerchiamo di capire qual è la ragione per cui questi bambini si trovano in strada no si cerca quello che si chiama il ricongiungimento familiare capire quale problema c'è a casa che ha spento il ragazzo fuori allora c'è la mamma insomma potrei stare a parlare ore di questa cosa con voi ma mi fermo io apprezzo molto questo genere di interessi perché noi purtroppo siamo abituati a considerare le persone che si occupano di queste cose come persone diverse che hanno una sensibilità diversa mentre in realtà la mia esperienza a music for peace ha insegnato una cosa fondamentale che chiunque di noi può essere protagonista di questo genere di modo di fare di pensare music for peace ha inventato un metodo che è veramente innovativo quello di organizzare festival ma raccolte anche di generi di prima necessità ma soprattutto per quanto riguarda i festival dove ci sono concerti arti spettacoli non si paga un biglietto d'ingresso quindi non c'è una raccolta a fondi vera e propria ma si porta un genere di prima necessità in modo tale che chiunque viene a un concerto sa quello che sta facendo perché di solito vai a un concerto ti paghi il biglietto invece ci arrivi col pacco di riso ci ragioni sopra e probabilmente ti rendi conto che ognuno di noi se vuole può essere protagonista di questo modo di fare di pensare di vedere il mondo possiamo parlare di genua ne stavi già parlando prima come sempre agli ospiti chiediamo un po di fare il punto sulla situazione la nuova proprietà abbiamo vissuto nuovamente una retrocessione siamo in serie b insomma come la vedi senti premesso che adesso mi sembra molto meglio siamo in un momento buono io ho fiducia in questa proprietà mettiamola così ehm perché sono un buonista di mio un positivista di mio quindi mi auguro che anche perché dopo quello che abbiamo passato credo che sia difficile toccare il fondo eh di nuovo visto che l'abbiamo già abbastanza toccato eh ho fiducia mi sembra che eh abbiano intenzione per davvero e voglio crederci di costruire un progetto cosa che da anni vorremmo che si creasse dalle nostre parti come come ha fatto l'Atalanta per esempio no? noi ci avevamo un uomo che era bello pronto per il progetto che poi se n'è andato quando quando non siamo stati iscritti per qualche migliaia di euro nella nella UEFA ti ricordi? eh eh che storico Gila è stata una sorpresa bellissima bellissima non me l'aspettavo pensavamo tutti che fosse una transizione ma chapeau al Gila e dopodiché sono molto attendista perché col grifone sapete che com'è la vita quindi non si sa mai non si sa mai siamo anche molto scaramantici qua a Roma oh quest'anno vedete in Serie A ferma e mi tocco cioè stai calmo non lo so col grifone non si sa mai bene e Carlo e Andrea domande per il nostro ospite sul Genoa Ignazio andiamo sul tecnico violento ahia allora hai citato prima Aramu allora Aramu un po' alla punta dell'iceberg di questo grifone che ha grandissime firme dalla cintola in su però poi per fare un gol fatica moltissimo e dobbiamo dirlo lo dicono i numeri più che io questo Genoa è secondo in classifica e ha buone speranze di andare in Serie A soprattutto per la sua fase difensiva tu che idea ti sei fatto delle difficoltà enormi che questa squadra sta avendo a fare gol a cominciare insomma dal re dei cannonieri delle ultime due stagioni ossia Massimo Coda rapportato al fatto che poi allenatore è un grandissimo bomber del passato addirittura del calcio italiano guarda secondo me a me piace molto più quando il Genoa gioca col 4-3-3 ho premesso questo sarà che c'è andata bene forse sono pronto a smentirmi la prossima volta che invece il modulo sarà un altro e vinceremo lo stesso facendo tanti gol mi sembra che ad oggi è la formula più adatta o comunque che ci ha fruttato di più se non erro Coda io ho ancora molta fiducia in lui ti dico la verità così come in Aramo il nostro Albert l'altro giorno ha fatto una partita pazzesca e mi auguro che continui a giocare così sì vero Aramo era un po' spaesato l'altra volta voglio sperare che sia stato solo un momento e non altro FT l'ho rivisto finalmente un po' meglio perché ultimamente l'ho visto un po' più barcollante mi domando se c'è qualche problema sentivo di forse un'ipotetica pubalgia quindi forse per questo era un po' meno reattivo insomma era un pochino lento non so non era l'FT dell'anno scorso invece sabato scorso l'ho visto in forma ha fatto una buona partita FT l'altra volta che altro portiere mi è capitato di chiacchierare recentemente non mi ricordo dove con qualcuno dei nostri portieri io ero uno che amava un sacco ah sì con Pianeta Genoa che ogni tanto mi invita Pianeta Genoa mi invitano ogni tanto nel salotto di Marco lo conoscete no? Marco Liguori certo ogni tanto mi invita insieme e poi mi invita sempre insieme al nostro portiere ex portiere Bravia mi invita sempre con Bravia tra l'altro ho fatto una mezza figuraccia perché io dicevo sai a me è sempre piaciuto sempre mi piaceva un casino eccetera però devo dire che dopo le prime partite un po' così di Martinez Martinez ci ha salvato più di una volta ci ha salvato a Bari anche sabato ha parato benissimo insomma quindi chapeau anche a Martinez poi tra l'altro sempre se n'è andato se non erro no? no no è rimasto è rimasto alla fine è rimasto ah ok quindi Bani a me non dispiace ok Iaramu ci aspettavamo forse qualcosa di più Carlo forse tutti ci aspettavamo qualcosa di più sì diciamo ma sai a questo punto magari facendo anche un parallelo con la tua con la tua professione con gli amici poi alla fine ci confrontiamo sempre e diciamo che poi alla fine è un discorso di chimica di squadra di gruppo perché insomma cosa puoi appuntare a questa società sul mercato a me piace fare l'esempio del Napoli che ha smembrato la squadra soprattutto da centrocampo all'attacco e adesso sta stradominando in Italia e si propone molto bene in Europa evidentemente non è colpa di nessuno però poi alla fine la classica scintilla che teoricamente dovrebbe nascere non scocca o comunque il rendimento non è assolutamente paragonabile al pedigree dei giocatori insomma questa è un po' l'idea di base che ci siamo fatti o non è colpa di nessuno alla fine succede così come tutte le cose della vita certo però secondo me ti voglio dire una cosa che la scintilla io ripeto spero che scatti ma magari ancora non è scattata in lui perché questi sono gli stessi giocatori che aveva Blessing eppure la scintilla è scattata in molti forse non ancora in lui viene da pensare questo perché sono più o meno gli stessi giocatori che aveva Blessing e quindi quella atmosfera quella scintilla quella mentalità magari che ha portato quella tecnica che ha cambiato voglio dire Girardino sicuramente ha portato tanto e di più ok forse non è riuscito non è scattato ancora qualcosa in Aramo io mi auguro che gli scatti e mi auguro anche presto sono d'accordo con te in tal senso ecco ma sai noi abbiamo ancora negli occhi il grande Genoa di Gasperini dove poi alla fine anche giocatori diciamo non di grandissima fama però in un contesto del genere alla fine riuscivano a rendere ben oltre quello che hanno espresso nella loro carriera e quindi insomma è un po' questo il desiderio la speranza ma non faccio il nome di coda dico che il Genoa ha 4, 5, 6 attaccanti di valore e poi vai a vedere i numeri e i numeri sono veramente impietosi insomma quella chimica che è scattata clamorosamente a Frosinone insomma sì pazzesca d'accordo scusa sto prendendo carica batterie perché si sta spegnendo se sentite dei rumori ho letto batteria quasi scarica siamo in chiusura comunque andrei una domanda sì noi a Genova ci dividiamo in tutto anche noi genoani siamo bravissimi a creare sottofazioni e allora la domanda che ti faccio io è questa all'interno della nostra società pare esserci un'area più vicina diciamo alla scuola sportiva tedesca alla sports quindi va alla ricerca di talenti un po' meno famosi e l'area invece più italiana quella che magari ha portato all'inizio del calcio mercato di serie B e l'usato sicuro quindi Coda Ramu e altri giocatori che dovevano consentirci una risalita più immediata allora tu saresti disposto ad aspettare anche un po' più tempo prima di risalire pur di avere una squadra alla Red Bull oppure dobbiamo per forza tornare in serie A e quindi ci servono anche dei vecchi volbi è una bella domanda è una bella domanda e ti dico la verità non so proprio cosa risponderti nel senso che da un lato ovviamente da tifoso avrei voglia di tornare in serie A domani e secondo me ci abbiamo i numeri per farlo se la mentalità della proprietà continua a essere questa vuol dire che probabilmente e me lo auguro che se usiamo sempre il condizionale torniamo su sicuramente arricchiremo il nostro parco giocatori sia di italiani che di stranieri schema Red Bull insomma no ni nel senso che probabilmente per certe cose e anche hanno fatto anche bene già il solo fatto che l'hanno cambiato il nome della squadra no quello è ignobile però mi viene da pensare che se davvero questi hanno intenzione di di investire di creare di formare di fare questo progetto importante per il Genoa e di portarlo in alto per davvero non è che se arriviamo in serie A si fermano e si accontentano perché se no torniamo da capo cioè ricominciamo come prima quindi mi auguro le possibilità e le capacità forse la rosa c'è per tornare su ma poi non ci basta quella ovviamente perché se andiamo su adesso per come siamo pidiamo pattoni spesso e volentieri un po' in giro no però a questo punto del campionato vediamo che i giocatori che stanno rendendo di più sono quelli disconosciuti portati da sports è vero ma soprattutto c'è un'altra cosa che a me che secondo me fa la differenza nel gruppo o anche nel singolo sapere che c'è un contratto che non ti scade domani o che forse ti fermi qualche mese perché se io mi fermo qualche mese io la gamba non ce la metto non ce la metto la gamba se io so che tra sei mesi neanche me ne devo andare o chissà dove vado invece il fatto di blindare dei giocatori buoni meno buoni bravo portati da sports l'idea di una prospettiva contrattuale di progetto e anche mi viene da dire perché io sono un giocatore non potrei concepire il gioco del calcio senza la passione però per i giocatori non è così ovviamente non per tutti almeno forse per la maggior parte non è così mi viene da pensare che forse ancora qualche piccola bandiera c'è ma avere la certezza che puoi continuare a giocare che c'è un progetto davvero e che sei retribuito e che quella squadra ti tiene sei invogliato a darti più ma è umano è umano cioè io devo fare un conto se mi pigliano per una per un cortometraggio dove devo fare un salto di una rupe dico beh fermati un attimo magari ci faccio mettere la controfigura un conto se mi pigliano per una serie di Netflix che ha sette stagioni la salto io la rupe imparo come si fa mi faccio insegnare lo stunt e vado perché ci metto la faccia certo insomma ne abbiamo visti purtroppo di giocatori che hanno saltato la rupe e basta esatto bene o delle controfigure abbiamo visto anche esatto molte controfigure bene ragazzi siamo in chiusura allora per restare in tema cinematografico cinematografico buona la prima boh non lo so vedremo come c'è venuta ma chi lo sa come diceva Vasco Rossi grazie mille perché comunque non ci poteva essere davvero primo ospite di questo gold edition migliore io sono l'Ignazio che avete sentito ai microfoni esattamente l'Ignazio che ho conosciuto io al telefono quindi è una persona che non ama definirsi una una celebrities ma no infatti ma lo è in fondo lo è quindi ma sono celebrity solo perché tifogeno a questo ci rende tutti noi allora lo siamo un po' tutti esatto mi farebbe anche molto piacere ospitarti nei nostri dopo partita con piacere Andre fatti dare il telefono da Stefano mandami un messaggino adesso Carlo se posso aiutarti in qualcosa anche io nella vita grazie grazie molto gentile ne approfitterò senz'altro dai dai perfetto ricordiamo che Genoani si resta gold edition va in onda una puntata ogni mese si inframezza con la versione standard original e quindi ancora grazie Ignazio grazie a voi ragazzi grazie davvero felice onorato di aver fatto parte anche per primo di questa new edition grazie grazie a te grazie Andrea grazie Carlo un buon fine weekend ma per me c'è ancora un pezzetto un abbraccio ciao 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 avete ascoltato Genoani si resta grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima settimana grazie a tutti